Scusi, ma in questo momento non posso parlare. Ho una perdita d'acqua, è tutto allagato. Oh, sì, sto aspettando l'idraulico. Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue. Bene, arrivo subito. Caroline, che resti tra noi? Devo donare un rene a mio fratello. La trovo affascinante. C'è un bel feeling tra noi, no? No, ho conosciuto l'interprete. E allora? Beh, è già innamorata. Non puoi continuare a mentire così. Io non so che cosa intendo. Un giorno tu racconterai una bugia di troppo. Ma che succede? Buongiorno! E cosa vuoi? Mi hanno chiamato perché si sta allagando. Smettila di dire a tutti che Virginie vorrebbe venire a letto con te. Non mi fai alcun effetto, nessuno. Virginie. Mi manchi così tanto. Normalmente mi piacciono gli uomini con gli occhiali e lo sguardo profondo, ma ora non più. Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e ora sono uno sfigato. Oh, no, 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 no! Che ci fai lì per terra? Sarà una giornata molto complicata. Ma quante cazzate hai raccontato? È assurdo! Non puoi farne a meno! È un merda. Il volante si è staccato! Ha visto una balena? Beh, sì. È stagione. Ma quale stagione? Non ci sono le balene a Nezza? Non ci sono! Il nostro astronauta soffre di vertigini. Partirà lei al suo posto. Sei imprevedibile. Lo adoro. Ho fatto una radiografia stamattina. Ho tre reni. In tutto il regno animale non c'è nemmeno un mollusco del cazzo a un pesce con tre reni.